Ciao. Benvenuti alla lezione 2. Questa è la seconda lezione di una serie di otto lezioni sul campo del pensiero algoritmico. Nelle lezioni precedenti abbiamo visto cos'è il pensiero logico. In questa lezione ci avviciniamo alla nozione di pensiero algoritmico. La durata di questa lezione è di circa 75 minuti. I partecipanti saranno organizzati in gruppi di lavoro di massimo 15 persone. Per la lezione saranno necessari un proiettore, un questionario e un personal computer o un portatile per i partecipanti. L'obiettivo di questa lezione è insegnare ai partecipanti l'importanza del pensiero logico. Un algoritmo è un insieme di procedure passo passo, o un insieme di regole da seguire, per completare un compito specifico o risolvere un particolare problema. La parola algoritmo è stata coniata per la prima volta nel nono secolo. Gli algoritmi sono ovunque intorno a noi. Esempi comuni sono, la ricetta per cucinare una torta, il metodo che usiamo per risolvere un problema di divisione lunga, il procedimento per fare il bucato e la funzionalità di un motore di ricerca sono tutti esempi di algoritmo. Ecco come potrebbe apparire la preparazione di una torta, scritta come un elenco di istruzioni, proprio come un algoritmo, RAO, ND, fascina triste. 1. Preriscaldare il forno. 2. Preparare gli ingredienti. 3. Misurare gli ingredienti. 4. Mescolare gli ingredienti per ottenere la pastella. 5. Ungere una teglia. 6. Versare la pastella nella teglia. 7. Mettere la teglia in forno. 8. Impostare il timer. 9. Quando il timer si spegne, togliere la teglia dal forno. 10. Buon appetito! La programmazione algoritmica consiste nello scrivere un insieme di regole con un numero finito di passaggi che istruiscono il computer su come eseguire un compito. Un programma per computer è essenzialmente un algoritmo che indica al computer quali passi specifici eseguire, in quale ordine specifico, per svolgere un compito specifico. Gli algoritmi vengono scritti utilizzando una sintassi particolare, a seconda del linguaggio di programmazione utilizzato. Le caratteristiche degli algoritmi. La definizione di un algoritmo è complessa e comporta diverse proprietà. Questa sottosezione descrive tali proprietà. Insieme di passaggi specifici. La prima proprietà da menzionare non fa che ribadire quanto detto in precedenza, un algoritmo è un insieme di singoli passaggi. Una ricetta si adatta a questa analogia in modo molto semplice, essendo piena di passaggi come, preriscaldare il forno a 180 gradi Celsius o aggiungere due cucchiai di zucchero all'impasto. Finitezza. A seguito di questa proprietà c'è la specificità, che significa che ogni passo deve essere definito con precisione. Ogni passo di un algoritmo può avere uno e un solo significato, altrimenti è ambiguo. Allo stesso modo, gli chef sono giunti alla stessa conclusione, ed è per questo che producono ricette utilizzando misure precise invece di scrivere cose come un po' di zucchero o cuocere per un po'. Sequenziale. Anche gli algoritmi sono sequenziali. Le fasi che compongono il processo devono essere eseguite nell'ordine prestabilito. In caso contrario, il risultato dell'esecuzione dell'algoritmo sarà probabilmente errato. Ripensiamo all'analogia. Tagliare a dadini una cipolla e friggerla sono fasi diverse. Tagliare una cipolla a dadini prima di friggerla ha un risultato diverso che friggerla senza tagliarla. Allo stesso modo, moltiplicare un numero per due e poi aggiungervi cinque da un risultato diverso dall'aggiungere prima cinque e poi raddoppiare. Come in una ricetta, è necessario rispettare la sequenza quando si esegue un algoritmo per ottenere un risultato efficace. Approfondimento, lo stato negli algoritmi. È opportuno approfondire un po' l'argomento trattato per esaminare il motivo per cui la sequenza è così importante per gli algoritmi. Tutto ha a che fare con lo stato, cioè con i valori attuali di tutte le cose di cui l'algoritmo tiene traccia. La sequenza dei passi di un algoritmo assicura che lo stato cambi sempre nello stesso modo ogni volta che l'algoritmo viene eseguito. Tipologie di algoritmi. Algoritmi divide e tempera, suddividono il problema in sottoproblemi più piccoli dello stesso tipo, risolvono questi problemi più piccoli e combinano le soluzioni per risolvere il problema originale. Algoritmi di forza bruta, provano tutte le soluzioni possibili finché non viene trovata una soluzione soddisfacente. Algoritmi randomizzati, utilizzano un numero casuale almeno una volta durante il calcolo per trovare una soluzione al problema. Algoritmi gridi, trovano una soluzione ottimale a livello locale con l'intento di trovare una soluzione ottimale per l'intero problema. Algoritmi ricorsivi, risolvono la versione più bassa e semplice di un problema per poi risolvere versioni sempre più grandi del problema fino a trovare la soluzione del problema originale. Algoritmi di backtracking, dividono il problema in sottoproblemi, che possono essere risolti, tuttavia, se non si raggiunge la soluzione desiderata, si procede a ritroso nel problema fino a trovare un metodo che lo faccia progredire. Algoritmi di programmazione dinamica, suddividono un problema complesso in un insieme di sottoproblemi più semplici, quindi risolvono ciascuno di questi sottoproblemi una sola volta, memorizzando la loro soluzione per un uso futuro invece di calcolarne nuovamente le soluzioni. Algoritmi di ordinamento Un algoritmo di ordinamento è un algoritmo che mette gli elementi di un elenco in un certo ordine, di solito in ordine numerico o lessicografico. L'ordinamento è spesso un primo passo importante negli algoritmi che risolvono problemi più complessi. Esiste un gran numero di algoritmi di ordinamento, ognuno con i propri vantaggi e costi. Di seguito ci concentreremo su alcuni degli algoritmi di ordinamento più famosi. Ordinamento lineare Riconoscimento facciale Orari degli autobus